In genere noi attendiamo questa come una delle tante iniziative in cui apriamo le frontiere al territorio. Il liceo Manzoni nell'articolazione classica aderisce alla rete nazionale dei licei classici in questa notte che è l'iniziativa di promozione della cultura liceale classica come forma di innovazione deontologica, culturale. Il liceo Manzoni a partire dal prestigiosissimo laboratorio di teatro classico diretto dal professore Massimo Santoro, onorando quello che è il viatico di essere stato insegnato del titolo di fuoco di prometeo dall'inda, promuove la cultura classica nel territorio a partire dal viaggio di Odisseo e questo l'incipit di questa sera, un viaggio ideale, culturale, teologico anche ma anche scientifico in cui praticamente la civiltà classica si intreccia con le varie branche del sapere ed il viaggio di Odisseo diventa il pretesto, l'occasio in base a cui l'idea della cultura classica possa essere manifestata non solo come idea tradizionale ma anche come forma innovativa di codice culturale per questi ragazzi che devono essere consapevoli di essere i portatori di una cultura che tutt'altro dall'essere vetusta è oggi una chiave di accesso importantissima a quelle che sono le frontiere delle professioni, della imprenditorialità, a quelle competenze chiave che l'Europa e il mondo ci chiedono e noi sappiamo che possono essere tranquillamente declinati attraverso la cultura classica. Questa serata è una serata in cui a partire dal laboratorio, dalla cultura del dipartimento, delle lettere classiche ci apriamo ad opinion leader del territorio che nelle varie branche della società civile, della cultura e della scienza incarnino l'idea di un abbraccio ideale e sinergico tra culture. Oggi Regina è la cultura classica e il Manzoni onora questa data. Io mi trovo qui per curare diciamo quello che è l'aspetto di medicina sociale, l'aspetto scientifico perché accanto a tutte le problematiche non possiamo negare che l'arrivo dei migranti ha prodotto anche delle problematiche di tipo sanitario, per la gran parte ingigantite e l'obiettivo è proprio quello di conoscere per poter capire, comprendere, prevenire e soprattutto per fugare alcune paure. Il timore che i migranti possono essere vettori di patologie prima o nuove o comunque debellate è purtroppo stato fatto oggetto di sciacallaggio da parte della politica e quindi è il momento di fare un'operazione di tipo verità, di dire veramente come stanno le cose.